I quattro nuovi assessori designati dal sindaco hanno firmato l'accettazione dell'incarico, quindi è nata ufficialmente la terza giunta di Paolo Dosi. Stefano Cugini, Giorgio Cisini, Giulia Piroli e Luigi Gazzola si sono recati a Palazzo Mercanti in mattinata per sottoscrivere il documento. Lo stesso avevano fatto i confermati Tiziana Albasi, Silvio Bisotti, Katia Tarasconi, Luigi Ravufi e Francesco Timpano, che sarà vice sindaco. Sono state confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi. Francesco Timpano avrà lo sviluppo economico, Katia Tarasconi il commercio, la trasparenza e la semplificazione, Tiziana Albasi cultura, turismo e giovani, Giulia Piroli politiche e scolastiche, Stefano Cugini welfare e sostegno alle famiglie, Silvio Bisotti pianificazione territoriale, urbanistica e territorio, Giorgio Cisini lavori pubblici, cura della città e sport, Luigi Ravufi ambiente, pendolarismo, partecipazione e lavoro, e infine Luigi Gazzola ritorna al bilancio e personale, in carico che aveva già ricoperto nella giunta Reggi. Cisini si è dimesso da presidente di Acer. Sì, è stata una sorpresa, nel senso che avevo pianificato un lavoro di un certo tipo all'interno di Acer, credo che tutti lo conoscono, immagino che anche questo sia stato apprezzato, il sindaco mi ha dato una grande responsabilità, aducendo di avere grande fiducia in me, io spero di essere in grado di ricambiare la sua fiducia nel migliore dei modi, sicuramente con tanto entusiasmo. Luigi Gazzola va in aspettativa dal Tribunale di Piacenza dove lavora. Ho fatto l'incarico e quindi da domani sarò assessore a tempo pieno della Comune di Piacenza. È un ritorno dopo un periodo, dopo gli anni dell'ultima amministrazione, dovrò rimettere un po' mano alle cose di cui ormai non mi occupavo più, ma insomma cerco di farlo in tempi rapidi e di riprendere il polso della situazione il prima possibile. La nomina di Luigi Gazzola in giunta è anche un importante passaggio politico perché l'Italia dei Valori ritorna organicamente in coalizione, in maggioranza. Si recupera un percorso che era stato interrotto un anno fa in occasione delle politiche che poi aveva avuto un effetto a cascata anche sulle situazioni territoriali, quindi sulle amministrazioni locali. La nuova giunta si riunirà per la prima volta domani pomeriggio. La nuova giunta si riunirà per la prima volta domani.